Io so che tanta gente a voi non capisce quello che vuole fare, ma quando c'è un incidente, c'è un ferito, ma c'è il ferito, dobbiamo fasciare le ferite, curarle lì, guarire quello che si può, poi si pensa, lavorare fra la vita e la morte, io vi ringrazio quello che voi fate davvero, ho ammirazione per voi, davvero lo dico, mi sento piccolo davanti al lavoro che voi fate rischiando la vita e vi ringrazio dal cuore, questo è... Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!